Silvano Martina, dall'alto della sua esperienza, questo è un mercato povero, forse uno dei più poveri degli ultimi vent'anni? Sì, sicuramente, in generale sì, anche se poi qualche operazione importante c'è stata, Roma che ha preso i turbe, non è da mercato povero, qualcuno ha speso delle squadre importanti, ma in generale in effetti lo è. Roma che poi ha comunque ceduto anche Benatialba e il Monaco incassando una bella cifra. Sì, sì, Walter è un grande dirigente, fa questo tipo di operazioni, ha sempre venduto bene, ha comprato meglio, questo è un bene per il calcio italiano, però ripeto, ci sono stati Napoli, comunque ha investito, un po' di soldi sono girati, però a differenza degli altri mercati sicuramente tra i più poveri. Per quanto riguarda Napoli poi molto dipenderà anche dall'accesso o meno alla Champions per poi utilizzare la somma che arriverebbe dalla qualificazione? Sì, è importante, ma è importante per il calcio italiano, per il prestigio, perché sono convinto che è un calcio molto più forte di quello che si pensa, quindi se le nostre squadre vanno avanti nelle coppe è un bene per tutti. C'è grande curiosità, per quanto riguarda il campionato italiano, di vedere all'opera Vidic, poteva arrivare molto prima in Italia nel 2005? Sì, no, nel 2004, lui è un campione sicuramente, non più giovanissimo, ma penso per alcuni anni potrà fare protagonista, perché è ancora il marcatore vecchio stampo, è tatticamente intelligente, è un grandissimo professionista, la vita si è allungata, quindi i 33 anni di oggi sono i 30 di 15 anni fa, e penso che l'Inter abbia fatto veramente un colpo importante. Vede già il leader della difesa nera azzurra? Ma il leader si diventa giocando e viene riconosciuto anche dai compagni, ha questo tipo di caratteristiche, ma la cosa certa è che parlando così mi ha saputo che ci tiene moltissimo a far bene. Parlando invece di Buffon, secondo lei è destinato comunque ad essere anche il titolare ai prossimi mondiali tra quattro anni della Nazionale? Se sta bene fisicamente non ce n'è per nessuno, perché Gigi è un campione mondiale assoluto, ripeto, ma non lo dico, tuttora è il portiere più forte del mondo. Invece tra i più giovani, Perin, come le sembra diventare l'erede di Buffon? Se facciamo questi confronti facciamo mare anche a Perin, Perin sicuramente dei giovani è un portiere importante, ha tutto a 21 anni, quindi con le margine di miglioramento notevoli, un ragazzo serio. Ma come sempre poi ci sono le generazioni nuove che arrivano e ci sarà una buona generazione di portieri. C'è anche scuffette ovviamente. Scuffette, le ali, non mi vengono in mente, però ci sono tanti ragazzi giovani che stanno mettendo in mostra, facciamo ricrescere con tranquillità e che noi non abbiamo pazienza. Il primo errore ti segnano che sei una pipa, che cose di questo genere. All'estero sono più comprensivi verso i giovani. L'ultima considerazione ancora sulla nazionale, il nuovo team manager sarà Lele Oriali, è stata una scelta giusta quella di Tavecchi oppure ci potevano essere decisioni diverse, ad esempio Antonioni che è accompagnatore delle nazionali giovanili da ormai 10 anni, si aspettava un trattamento diverso, si aspettava che quel ruolo potesse andare a lui? Non lo so, mi interessa poco, sono contento per Lele perché è un mio amico e so che aveva voglia di rientrare, è rientrato con un ruolo importante e sono felice per lui.